Futuro incerto, anzi nero, per il comprensorio scistico del Gran Sasso che comprende Prati di Tivo e Prato Selva. Marco Finori, l'imprenditore marchigiano, che si era giudicato il bando di acquisto per gli impianti delle due stazioni, eccetto la cabinovia, con un'offerta di 1.650.000 euro, non si è presentato dal notaio per la firma del passaggio di proprietà tra lui e la Gran Sasso Terramano. Un colpo di scena che ha costretto i soci della GST a riunirsi in assemblea per annullare la vendita a Finori e convocare di gran carriera la ditta dei fratelli Persia di Totea, che si sono piazzati al secondo posto in graduatoria del bando con un'offerta di 1.520.000 euro. Risponderà la ditta Persia? Confermerà l'offerta? Qualcosa si sta muovendo. È ciò che trapela dagli uffici della provincia di Teramo, dove il presidente Diego di Bonaventura assicura che si sta lavorando per dare certezza di continuità ai prati di e a tutta la montagna teramana, soprattutto con l'estate in arrivo. Della defezione di Finori si è discusso anche in Commissione Garanzia, Vigilanza e Controllo della provincia. La minoranza, rappresentata dal consigliere Luca Pilotti, ha esposto il proprio pensiero sull'argomento. Pilotti ha chiesto che la gestione degli impianti del comprensorio scistico teramano non siano affidati solo per il prossimo anno, ma per un periodo più lungo, al fine di assicurare agli operatori turistici la possibilità di investire sul territorio, avendo come garanzia la fruibilità delle infrastrutture a lungo termine. Si resta dunque in attesa di una risposta e si spera soprattutto in una gestione pluriennale.